Buongiorno, oggi siamo qui a dialogare con Innocenzo Cipolletta, che penso non abbia bisogno di presentazioni, è un economista, è stato nell'industria come direttore generale della Confindustria e oggi è Presidente dell'Assonime. Ecco, volevamo discutere un po' del futuro dell'economia italiana e dell'occasione che presenta questo Recovery Fund. Partirei da una visione un po' generale, cioè quali sono secondo lei le ragioni del calo di produttività dell'economia italiana e in che modo il Recovery Fund può farvi fronte? La caduta della produttività italiana è derivata soprattutto dal forte rallentamento economico che noi abbiamo conosciuto, a partire in particolare dalla crisi dell'Euro, quella del 2011, quando si stabilì che la Grecia poteva fallire e che quindi i mercati hanno cominciato a dubitare della tenuta dell'Euro, hanno scommesso contro l'Italia, l'Italia ha visto aumentare i suoi tasse di interesse e ha dovuto fare delle politiche di austerità. Queste politiche di austerità hanno ridotto la crescita economica, ma è molto forte e quando si riduce la crescita economica succede che la gente che cerca lavoro deve adattarsi ai pochi lavori che esistono e i pochi lavori che esistono in genere sono lavori marginali, lavori nei servizi e questo porta a una riduzione della produttività perché evidentemente una parte della popolazione finisce per andare a lavorare in attività, in imprese con un basso livello di valore aggiunto per addetto e complessivamente genera una riduzione di produttività. Questo non significa che il Paese sia meno produttivo perché le imprese industriali, quelle che continuano a operare sui mercati invece hanno incrementi di produttività molto forti, anzi a volte con la crescita bassa hanno incrementi di produttività molto elevati e questo riduce la loro occupazione perché sappiamo che la produttività è il rapporto in genere, lo consideriamo un rapporto tra il livello della produzione e il livello dell'occupazione. Le imprese produttive cercano di economizzare manodopera e capitale e questo aumenta la loro produttività ma riduce l'occupazione. Se il Paese crescesse tutto questo non sarebbe un problema, quando il Paese non cresce il problema si pone e si diventa un Paese a bassa produttività. Quindi secondo lei è un problema di domanda il calo della produttività e la perdita di competitività che c'è stata nell'economia italiana o ci sono altre ragioni? La perdita di competitività è difficile da ammettere perché il Paese esporta in maniera molto felice, abbiamo una bilancia dei pagamenti attiva, le imprese industriali, cioè quelle che esportano, ovviamente abbiamo anche i servizi, ma i servizi esportano di meno, le imprese industriali hanno una buona competitività, quindi io non credo assolutamente che ci sia una perdita di competitività per il Paese, c'è sicuramente una perdita di produttività, ma appunto questa è legata alla bassa crescita e la bassa crescita è esattamente il prodotto della bassa domanda. Per molti anni, dal 2011 praticamente fino adesso, noi abbiamo dovuto ridurre la domanda interna attraverso politiche di aumento delle tasse o di riduzione della spesa pubblica e questo evidentemente ha compresso la domanda interna, ha favorito le esportazioni, ma non ha favorito la crescita e questo è il problema dell'Italia, ma mi faccia dire che questo è il problema di tutta l'Europa. L'Europa sono 27 Paesi centrati tutti sulle esportazioni, per essere centrati sulle esportazioni questo significa banalmente che io devo abbattere i costi di produzione per essere più competitivo e esportare, abbattere i costi di produzione significa avere meno salari, meno occupazione e soprattutto meno tasse, avere meno tasse significa avere meno spesa pubblica, complessivamente quindi la domanda interna viene completamente contenuta e i Paesi diventano competitivi, però la crescita non ci sta più, di fatto l'Europa è un insieme di Paesi che crescono poco, perché crescono solo export led, cioè una volta che riescono a esportare macchi all'Asia, agli Stati Uniti d'America, in particolare in questo periodo in cui cominciamo ogni area, cerca di trattenere le produzioni a casa propria e anche le nostre esportazioni fletterlo, quindi l'Europa e l'Italia o rilanciano la domanda interna o non ci sarà. Ma secondo lei quindi non c'è un caso italiano in Europa? C'è un caso italiano, sì, primo perché noi abbiamo un debito più alto di tutti quanti gli altri per una serie di ragioni storiche e questo evidentemente impone che le rigidità delle austerità si è stata più forte in Italia che altrove. Secondo luogo, noi siamo un Paese dove il livello di occupazione è basso, noi abbiamo ancora una larga parte di giovani e soprattutto di donne inoccupate e questo significa che abbiamo una riserva di crescita che non è esplicitata e che si può esplicitare solo se ci sta una forte domanda. Senta, Marcello De Cecco, era questo un suo punto di orgoglio, diceva che il sistema italiano una volta aveva delle grandi aziende e poi piano piano le ha perse tutte. Marcello considerava questa una delle ragioni del calo del peso dell'economia italiana e di quello che lui considerava il suo declino. Come si fa secondo lei a recuperare in questo mondo così competitivo e aperto delle grandi aziende che siano italiane o comunque sappiano far fare questo salto all'economia italiana? Sì, sicuramente noi abbiamo perso le grandi imprese, questo processo è andato avanti nel corso degli anni passati, contemporaneamente bisogna dire che il mondo sta cambiando molto. Mentre nel tempo le grandi imprese erano le imprese industriali essenzialmente e quindi c'erano dei colossi industriali che avevano 100 mila addetti, 150 mila addetti. Adesso i colossi sono imprese di servizio, faccio un esempio banale, la Walmart è la più grande impresa del mondo, quella che vende e ha negozi in tutto quanto il mondo, le telecom, le banche, le grandi banche hanno 70-80 mila dipendenti, l'industria è diventata più piccola, si è concentrata, si è specializzata e questo siccome noi siamo un paese industriale siamo rimasti piccoli, però mi faccia dire ancora un'altra cosa, cos'è una grande impresa? Spesso si pensa che una grande impresa sia quella che ha molti dipendenti, ebbene io credo che una grande impresa sia invece quella che sia leader del suo mercato, cioè quella che detiene una quota del suo mercato sufficiente per essere questa impresa price leader, cioè può imporre i suoi prezzi e gli altri siano price takers, cioè rincorrono l'impresa sui prezzi. Ecco, se facciamo questa considerazione, perché essere grandi significa essere dominanti sul proprio mercato, faccio un esempio banale, l'automobile, l'FCA non è una grande impresa perché sul mercato non domina il suo mercato dell'auto, mentre una industria come Brembo che fa freni domina il suo mercato perché è una delle maggiori imprese che fa freni. Paradossalmente è più grande Brembo di FCA, malgrado il numero dei dipendenti sia più bassa. Ecco, l'Italia ha un certo numero di piccole e medie imprese che dominano i loro mercati perché sono specializzati in alcuni settori e queste imprese per me sono grandi, sono imprese importanti perché sviluppano tecnologia, battono i propri concorrenti, riescono a dominare i propri mercati. L'impresa industriale difficilmente diventa una grande impresa, forse l'unico settore dove la dimensione domina è quello del farmaceutico, però anche lì ci rendiamo conto che la ricerca e lo sviluppo non è più fatto della grande impresa, ma è acquistato. L'esempio di Pfizer è evidente, Pfizer ha acquistato con BioNTech un modo di fare un bacino e evidentemente loro riescono a produrre in quantità gigantesca e a distribuirlo per tutto il mondo, cosa che BioNTech non riuscì da fare. Qual è la grande impresa? In questo Pfizer agisce quasi come un fondo di venture capital, in realtà acquista un'innovazione e sempre più le innovazioni si fanno fuori dalla grande impresa, si fanno delle piccole, ecco quello che noi dobbiamo avere, dobbiamo avere alcuni settori, alcune imprese che riescono a acquistare anche quelle che sono le innovazioni che si formano in piccole imprese, in laboratori, in università per poi svilupparle e portarle avanti. Questo è il futuro dell'economia e questo io vedo il futuro dell'industria. Ritorniamo al recovery fund, in che modo secondo lei si può affrontare il tema dell'ineguaglianza e dello sviluppo dell'economia italiana? Per la prima volta in Europa ci punta sulla domanda interna europea e questo è sicuramente un cambio di paradigma importante e utile, perché l'Europa come dicevo non può crescere esportando nel Vietnam in Cina o negli Stati Uniti d'America, deve crescere con la propria domanda interna. Dopodiché esporterà, non ho nulla contro l'esportazione, al contrario, però la prima fonte di crescita di un paese di 400 milioni di abitanti è la domanda interna e il recovery fund riporta l'attenzione sulla domanda interna, le infrastrutture, l'istruzione, la crescita dei servizi alle famiglie. E qua veniamo al punto importante, una larga fetta del recovery fund è dedicata ai servizi alle persone che vadano dalla sanità all'istruzione, alla sicurezza, sono servizi importantissimi. Allora io vorrei sottolineare che nei paesi moderni la riduzione delle diseguaglianze non avviene attraverso il sistema fiscale, tassando chi è ricco e non tassando chi è povero, avviene soprattutto con la disponibilità di buoni servizi gratuiti per tutti, in particolare per coloro che sono meno abbienti. Un paese dove coloro che hanno un reddito limitato possono avere una buona scuola, una buona sanità, un buon sistema dei trasporti, un buon assistenza per l'introduzione al mondo del lavoro e alla disoccupazione quando cadono disoccupati, un buon sistema di previdenza per il futuro, in questo paese pur se ci sono grosse differenze di reddito, sarà un paese molto più uguale, molto più giusto, perché questi servizi rendono le persone tutti sullo stesso piano, evidentemente se sono gratuite per chi ha poco reddito e magari con qualche contributo per chi ha più reddito. Comunque c'è un problema grosso di fisco, perché se il fisco non distribuisce equamente il carico fiscale sui contribuenti, diventa un'altra ineguaglianza. Come si fa ad affrontare questo problema dell'evasione fiscale che poi ha alla radice anche problemi economici? Nel senso che un sistema che consente l'evasione fiscale consente la sopravvivenza di settori marginali che forse se dovessero pagare le tasse scomparirebbero. Ci sono due strade per correggere l'evasione fiscale italiana, fra le altre, perché ovviamente se ne possono essere altre. La prima è sicuramente ormai quella di utilizzare l'informazione digitale che ci consente di capire praticamente tutto. Oggi tutto quanto, le banche dati esistenti possono dire tutto quello che noi consumiamo, quello che spendiamo, siamo addirittura tracciati quando ci muoviamo da casa nostra e andiamo dentro un negozio. Quindi si riesce a individuare quelle che sono le transazioni e questo dà all'agenzia delle entrate, se la vuole utilizzare, un atu enorme per combattere l'evasione fiscale. Negli altri paesi non si va più a fare irruzioni dentro le aziende per andare a trovare documenti segreti che non ci stanno più. Si usano le banche dati da remoto e si individuano le persone. I sistemi bancari ormai sono trasparenti, la finanza può entrare in tutte le banche, quindi la prima lotta all'evasione è quella lì. La seconda lotta all'evasione è cominciare a spostare una parte del carico fiscale dai redditi alle cose e in particolare alle case. Noi abbiamo escluso la prima casa dall'Imu quando in tutti i paesi del mondo, quelli più corretti, le tasse locali si pagano sulla base della casa a disposizione della persona. Questo significa che se noi riduciamo l'IRPEF e aumentiamo invece la Tari, la Taxi, l'Imu o quello che sono, avremo una riduzione dell'evasione perché la casa è l'unica cosa che non si riesce a nascondere. Io posso nascondere il mio reddito, posso essere pagato in nero, quanto mi pare, ma con una foto fatta dal cielo, da un drone, io riesco a identificare tutte le abitazioni che esistono sul territorio e quindi a prendere tutte le persone. Ecco quindi che se noi spostassimo parte dell'imposizione dal reddito alla casa, il contribuente onesto non perderebbe nulla, anzi probabilmente ci guadagnerebbe, sicuramente solo e sarebbe una gran cosa. Ringrazio Innocenzo Cipolletta per essere stato con noi in questo discorso sull'economia e il Recovery Fund e ci vediamo prossimamente.